buongiorno a tutti e ben arrivati a questo nuovo appuntamento grazie franco per essere relatore di quest'oggi vi ricordo che tutti i nostri webinar saranno disponibili sul nostro sito il sito dell'associazione apm ticino punto ch per avere l'attestato ovviamente vi ricordo che da settembre di quest'anno è possibile riceverlo se siete soci della dell'associazione per ogni informazione per ogni domanda avete la nostra mail che info at apm trattino ticino punto ch a questo punto direi che passo la parola franco vi auguro di passare un buon momento con lui e ci vediamo tardi ciao a tutti buon pomeriggio a tutti ringrazio virginia antonio e supsi per avermi ospitato qui oggi e soprattutto ringrazio voi che siete in ascolto che appunto partecipate attivamente a questo webinar come organizziamo come organizzato questo webinar per circa una quarantina di minuti vi parlerò del del canvas l'indecision quality e vi mostrerò anche un'applicazione pratica del canvas naturalmente sarà una sintesi molto stringata e poi diciamo utilizzeremo gli ultimi 15 20 minuti se avete delle domande curiosità da da pormi iniziamo subito sono franco zullo il fondatore di stratego e mi occupo di aiutare persone e organizzazioni a prendere decisioni strategiche di qualità per diciamo innovare differenziarsi eccellere attraverso appunto lo sviluppo di innovativi processi tool set e mindset che andrei che andrete a vedere che vi mostrerò oggi in questo webinar veniamo subito al dunque facciamo una piccola introduzione del contesto di riferimento allora diciamo che il contesto economico imprenditoriale oggi è ormai soggetto ad una veloce e dinamica evoluzione dovuta soprattutto al mondo in cui si trova a operare ogni organizzazione il cosiddetto mondo buca quindi diciamo che la globalizzazione il digitale la cultura dell'innovazione i nuovi modelli di gestione stanno rimuovendo le cosiddette barriere all'ingresso eh dell'entrata appunto sul mercato di nuovi player e questi sono tutti elementi che condizionano lo sviluppo e il successo delle organizzazioni nei diversi settori e un altro fattore anzi due fattori molto importanti sono la gestione della complessità nelle organizzazioni e la gestione dell'incertezza andiamo a vedere adesso l'importanza del processo decisionale nelle organizzazioni una eh ricerca di Bain & Company eh dice che le decisioni influiscono sul 95% delle performance aziendali e eh un'altra ricerca eh condotta da Cloverpop eh in uno studio americano fatto tra il 2015 e il 2017 ha evidenziato che le decisioni migliorano se la diversity eh quindi il la gender diversity aumenta eh favorendo appunto questa gender diversity rispetto a un team di soli uomini le decisioni migliorano dal 58 al 73% e si arriva fino ad un massimo dell'87% se si favorisce anche il gap di età di almeno vent'anni tra i partecipanti diciamo alle decisioni e eh la diversità geografica quindi almeno due continenti diciamo che la diversità multifunzionale multiculturale di genere nelle organizzazioni eh soprattutto eh ha questo effetto positivo che sviluppa il pensiero critico la creatività e il problem solving favorire la diversità però è condizione necessaria ma non sufficiente per prendere decisioni di qualità perché questo perché i pregiudizi i cosiddetti bias eh che sono connaturati eh alla eh natura umana ne degradano eh la qualità almeno fino al cinquanta per cento e questo è tanto più vero quando la decisione è unica ossia non ho preso in considerazione alternative e quando i risultati sono incerti ossia la decisione eh è orientata al futuro a questo punto eh andiamo a vedere qual è il vero problema il problema è che manchiamo molte opportunità perché eh molte delle decisioni che prendiamo le prendiamo per intuito ossia la decisione che la decisione è spesso basata su una eh irrilevante, inaffidabile o inadeguata informazione a disposizione oppure eh manchiamo molte opportunità perché molte delle nostre decisioni le prendiamo per approvazione e diciamo assumiamo che l'accordo o il cosiddetto advocacy culture e assumiamo appunto che l'accordo raggiunto eh sia di qualità escluendo a priori le varie alternative. Un esempio di decisione per approvazione è io io vi presento un'idea e eh voi dite ah bella quest'idea perché non la proviamo? Quindi non esploriamo le varie alternative. Diciamo che circa l'ottanta per cento delle decisioni che prendiamo avvengono per intuito e approvazione. Inoltre manchiamo molte opportunità perché eh spesso indirizziamo il problema in maniera non corretta e finiamo appunto ad affrontare il problema sbagliato. Inoltre eh spesso siamo affetti dalla sindrome del good enough ossia la prima o alla seconda occasione che ci capita la prendiamo senza mai ricercare il massimo valore realizzabile da una decisione. E infine i pregiudizi e le false ipotesi eh diciamo che sovvertono il nostro pensiero razionale e analitico. Quindi manchiamo molte opportunità perché siamo umani. Questo è il vero problema. E eh diciamo andiamo a analizzare adesso i pregiudizi. Quali sono i principali pregiudizi che degradano la qualità di una decisione? Il primo è l'overconfidence ossia è l'eccesso di sicurezza che le persone hanno nelle proprie capacità o in quelli della dell'azienda e e questo li porta naturalmente a ignorare informazioni contraddittorie e a correre rischi eh che non dovrebbero prendere. E un altro eh diciamo eh pregiudizio molto importante è il cosiddetto confirmation bias che è la nostra tendenza inconscia eh ad attribuire molto più peso eh di quello che si dovrebbe ad un ad una informazione che è coerente con le nostre convinzioni, con la nostra idea di partenza e a scartare le informazioni che la contraddicono. Il penultimo eh è naturalmente pregiudizio eh cognitivo è il famoso eh cosiddetto ancoraggio eh ossia è l'impatto potente eh che un'idea iniziale o un numero hanno eh sulla successiva conversazione strategica. Ad esempio i numeri dell'anno scorso possono essere un'ancora eh implicita ma estremamente potente per appunto per la revisione di un budget o per la successiva diciamo piano strategico eccetera. E l'ultimo eh dei pregiudizi cognitivi diciamo molto importanti eh che incidono profondamente nella 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 qualità nella presa di qualità di una decisione è il famoso grouping cioè l'uniformarsi eh all'idea di gruppo oppure a quello che dice il capo. In sostanza possiamo concludere che lo sforzo cognitivo individuale non è sufficiente. Infatti bisogna coltivare proprio una cultura a livello di organizzazione in cui le persone si si ricordano l'un l'altro che l'impostazione del nostro diciamo cervello è egocentrico e che a volte si rimane bloccati eh su una convinzione che può essere fallace. a questo punto di che cosa per eh affinché eh si possa mitigare questi pregiudizi naturalmente abbiamo bisogno di eh processi decisionali strutturati e testati per aiutare la mente umana appunto a mitigare questi pregiudizi e utilizzando eh processi e toolset permettono di ehm prendere di aumentare la qualità della decisione e dall'altra parte di eh permettere alla diversità multifonzionale multiculturale di genere di esprime appunto tutto il suo potenziale nella creazione di valore. Eh vi voglio sottolineare questo il vero processo decisionale avviene non quando sai già esattamente cosa fare ma quando non sai cosa fare. Andiamo avanti. Non so se vi ritrovate in questo ehm in in questa affermazione che il processo decisionale è appunto un problema comune in molte organizzazioni eh c'è uno studio della società finlandese fingerprint che dice che il cinquantanove per cento dei dipendenti ritiene che il processo decisionale sia il primo e il più importante problema sul posto di lavoro. Inoltre che il cinquantuno per cento delle decisioni appunto non sono allineate con la strategia dell'organizzazione quindi uno prende delle decisioni che eh esulano dalla dallo scopo eh dagli obiettivi e dalla strategia in essere e che il trentan tre per cento del tempo lavorativo è trascorso in attesa delle decisioni da prendere. Possiamo dire che il diciamo i buoni risultati sono ciò che desideriamo mentre le buone decisioni sono ciò che possiamo fare per massimizzare la probabilità di ottenere buoni risultati e questo è il vero legame. Naturalmente una delle possibili soluzioni è eh ne esistono tante di metodologie sui processi decisionali una delle tante possibili soluzioni che io porto avanti è eh che naturalmente ho reso io l'in è la l'in decision quality che deriva dalla decision quality della Stanford University che applicano con da quarant'anni eh con successo nelle corporate solo a livello di top management e diciamo la la questa metodologia è stata resa l'in per essere accessibili a tutti quindi colmare il gap di competenze strategiche soft skill che vi è tra la la startup piccola medie impresa e corporate e all'interno della stessa corporate e prende in considerazione diciamo tre aree la neuroscienza ossia come le persone prendono le decisioni la scienza delle decisioni prescrittive ossia come le persone dovrebbero prendere le decisioni e ho unito anche lo strategic coaching perché è molto importante definire e strutturare l'obiettivo e allinearlo allo scopo all'identità aziendale che è la vision la mission e la cultura aziendale e alla strategia in essere andiamo a vedere adesso come è fatto il canvas l'in decision quality e poi applicheremo un caso pratico è detto anche decision will è formato da cinque passi i primi quattro passi sono delimitati dai raggi della ruota il quinto passo corrisponde al fermo della ruota e il battistrada è costituito da identità aziendale quindi vision mission struttura e cultura aziendale e strategie in essere che segue la decisione in tutto il suo percorso inoltre ad ogni passo viene misurata la qualità e la qualità totale che si ottiene naturalmente quella del raggio più debole un esempio potrebbe essere voglio costruire una ferrari allora diciamo come primo passo utilizzo la fibra di carbonio più all'avanguardia come secondo passo utilizzo il motore più potente come terzo passo utilizzo l'elettronica più sofisticata come quarto passo utilizzo diciamo i sediti in pelle più comodo più comodi e come quinto passo utilizzo i freni della panda naturalmente la qualità che io associo alla ferrari è dovuto ai freni della panda allora qui vi faccio vi mostro i due processi che che possono dal punto di vista visuale che possono aiutare un team è un'organizzazione a prendere decisioni di qualità che poi sono traslati diciamo sono trasferiti nel canvas passo passo che in questo momento non vi illustro per motivi di tempo ma vi darò maggiori dettagli dopo allora questo è il processo l'indecision quality a rr attività ruolo e responsabilità ossia la responsabilità i ruoli sono decision maker e dream team il dream team è diciamo può essere associato al project team e decision maker è quello che prende la decisione alloca le risorse finanziarie e umane per poter poi fare e implementare la decisione e diciamo che la decisione senza un'azione non è non ha nessun senso prendere una decisione allora il primo passo è idea parto dall'idea quindi definisco l'obiettivo se l'obiettivo è un obiettivo di business quindi definisco l'obiettivo strutturo l'obiettivo con definendo la sua complessità le tempistiche i budget i valori e compromessi dopodiché passo alla fase successiva vedete il triangolino quello grigio chiaro è tutte queste attività sono in capo alla decision maker quindi anche l'identità aziendale l'allineamento dell'identità aziendale con l'obiettivo di business è in carico al decision maker se io invece voglio creare una start up la definizione dell'obiettivo in realtà è creare una start up e quindi vado al passo successivo nel senso mi serve definire la vision la mission la cultura i valori la struttura e una piccola strategia iniziale dopodiché passo al passo 3 focalizziamoci sul discorso obiettivo di business quindi in questo caso passa la strategia e allineo la strategia al al diciamo al al mio obiettivo di business a questo punto una volta che io ho definito e strutturato l'obiettivo quello che faccio è che coinvolgo con chi condivido l'obiettivo quindi definisco uno sponsor se c'è uno sponsor oppure posso delegare ad altri decision maker e quindi hanno la responsabilità di allocare risorse finanziarie umane per portare avanti il progetto definisco il dream team e definisco il dream leader il dream leader fa da trade union tra il decision maker e la dream team ma il dream leader può essere associato naturalmente al famoso project leader da qui si ha il è un checkpoint al primo passo in cui si viene attraverso una checklist viene definita la qualità raggiunta dal primo passo e si passa al passo successivo scusate questo giro di parole a questo punto il il dream leader diciamo il decision maker ha condiviso con il dream leader l'obiettivo di business il dream leader condivide con il team l'obiettivo di business e quindi pianifica tutte le attività per per poter sviluppare e presentare una una decisione di qualità al al decision maker quindi c'è un'analisi del contesto e naturalmente qui viene definito il frame ossia quali sono le scelte strategiche e come confino l'idea iniziale ossia è il cosiddetto come poi l'andremo a vedere nel dettaglio alla fine di questo frame io quello che faccio vado se ho bisogno se ho bisogno di informazioni esterne vado a coinvolgere anche diciamo esperti di settore e soprattutto vado a coinvolgere gli implementatori a questo punto faccio un secondo checkpoint con il decision maker e passo alla fase creativa ossia dalla mia definizione di obiettivo dalla mia idea iniziale vado a generare alternative che naturalmente devono essere creative avvincenti realizzabili e significativamente diverse e ben per ogni diciamo alternativa definita viene viene realizzato viene scritto un razionale strategico perché questa alternativa è convincente dopo la fase creativa a questo punto io vado a raccogliere le informazioni a supporto di ogni alternative quindi cosa conosco e cosa non conosco e quali sono le incertezze legate a queste alternative e li vado a confrontare contemporaneamente con dei tool analitici con i propri valori e rischi per poi scegliere la migliore soluzione anche qui ci sarà in questa fase un checkpoint con il decision maker e e poi c'è l'ultima fase che la fase di decisione in cui il dream team presenta appunto tra le varie alternativa qual è la migliore e perché è la migliore e il decision maker se è convinto di questa diciamo di di questa soluzione alloca le risorse finanziarie umane per portare avanti la decisione e qui finisce vi faccio vedere un altro un altro processo sempre diviso in attività fasi e stati perché può essere molto importante per visualizzarlo le fasi sono divise in cinque fasi quindi abbiamo ispirazione framing ideazione valutazione implementazione che corrispondono ai cinque passi qui nella fase di ispirazione e framing non abbiamo nessun business model da non è definito alcun business model e siamo nella diciamo nella nello stato del problema inoltre tra la fase di ideazione e valutazione abbiamo un business model diciamo quasi definito ma ancora da convalidare quindi siamo nella fase della soluzione e poi nell'ultima fase nella fase della decisione abbiamo un business model definito e siamo nella fase che possiamo andare sul mercato quindi definire l'obiettivo valutare se allineare o definire identità e strategia aziendale esplorare quindi diciamo il mercato in questo caso si può anche se io devo lanciare un prodotto si può enfatizzare quindi si può fare una ricerca con i clienti se se capire i bisogni nascosti dei clienti a questo punto si decide il frame e qui naturalmente si passe alla fase di ideazione si usa un tool che si chiama strategy table e naturalmente qui nella fase di valutazione si usano dei tool dei tool analitici per misurare le alternative con i valori e rischi poi si può seguire anche una fase di prototipazione e di test e alla fine scelta la la soluzione l'alternativa migliore la si va a implementare sul mercato quello che volevo sottolineare anche questo che per ogni tipo di obiettivo viene definito un processo se io ho un obiettivo individuale o di team il framework che utilizzo è sempre quello dell'index on quality canvas e in questo caso se è individuale o di team il processo è molto semplice coinvolgo alcuni collaboratori oppure volendo anche altri colleghi di altre divisioni la tempistica per poter prendere una decisione si parla di minuti ore oppure al massimo qualche giorno se invece l'obiettivo è di divisione naturalmente il framework rimane sempre lo stesso quello che cambia è il processo e le tempistiche il processo diventa strutturato ossia posso coinvolgere fornitori partners posso coinvolgere i clienti e collaboratori e colleghi di altre divisioni e naturalmente qui nella nella nel processo decisionale ci posso mettere alcuni giorni fino a anche a tre mesi dipende dall'obiettivo e se l'obiettivo è di direzione il framework rimane sempre lo stesso ma il processo diventa rigoroso quindi è impatta diciamo nelle decisioni di direzione in generale impatta quasi tutte le divisioni se non tutte le divisioni aziendali e quindi il processo diventa molto più appunto rigoroso da seguire le decisioni vengono prese in alcune settimane fino a sei mesi naturalmente quello che vi ho detto prima è collegare sempre ogni obiettivo di business ad identità e strategia diciamo che l'essenza di organizzazione la possiamo sintetizzare in questi quattro blocchi abbiamo la vision che il perché perché sto facendo quello che sto facendo per chi e perché esisto e diciamo e comprende gli obiettivi e di lungo termine e lo scopo mentre la mission e sono gli obiettivi di breve e medio termine ed è il come io realizzo la mia vision la cultura naturalmente all'interno della cultura troviamo anche soprattutto ai valori e la struttura che mi serve per realizzare naturalmente la mia vision e la strategia è il che cosa faccio per appunto la strategia non è altro che il percorso attraverso il quale con la mia cultura quindi con i miei valori e la mia struttura raggiungo la mia vision quindi il mio scopo e i miei obiettivi la mia la mia mission a valle della strategia e qui diciamo nei primi quattro blocchi insiste la line decision quality quindi è decisione strategica si parte alla si passa alla parte di execution quindi esecuzione della dell'idea di business lo scopo è la stella all'orizzonte da inseguire per sempre un esempio può essere la nasa che aveva lo scopo di raggiungere la luna quando ha raggiunto la luna naturalmente non aveva più uno scopo quindi è entrata un po in crisi su questa cosa qui inoltre la vision racchiude anche diciamo la gli obiettivi di lungo termine che è la cima da raggiungere e raggiunta una cima poi se ne scala un'altra e così via e la mission in realtà è la sono gli obiettivi di breve medio termine ossia io scalo un pezzo di montagna poi ne faccio un altro poi ne faccio un altro mentre i valori rappresentano la direzione verso il nostro futuro quindi diciamo che noi decidiamo prendiamo decisioni in base ai nostri valori o in base diciamo ai valori aziendali poi naturalmente non è sempre così e la strategia è quello che vi ho detto prima quindi è individuare la direzione andiamo a vedere un esempio diciamo che l'obiettivo è quello di lanciare un prodotto quindi la nostra strategia è lanciare un prodotto le domande che ci dobbiamo porre questo o la cultura e struttura per supportarlo vi ricordate quando steve jobs ideò il live phone lui che cosa fece creò una uno scan team di circa un centinaio di persone perché aveva capito che all'interno di apple ci avrebbe messo molto più tempo per realizzare l'iphone perché non c'era una cultura diciamo così disruptive e quindi lui ha creato lo scan team anche se aveva la struttura per supportarlo dopodiché quindi quello che io sto facendo è coerente con il mio scopo è coerente con i miei obiettivi di breve medio termine ed è coerente con la mia strategia in essere se ho coerenza con vision quindi cultura e struttura e mission e strategia allora a questo punto diciamo definisco bene l'obiettivo definisco struttura l'obiettivo e attraverso appunto questa fase creativa mi genero alternative e queste alternative possono essere diciamo che corrispondono a tanti modelli di business mi scelgo quello il miglior il miglior modello di business per me a questo punto quello che faccio nelle decisioni tattiche che la parte in basso della strategia perché si divide in una strategia in decisioni strategiche decisioni tattiche vado a definire le caratteristiche del prodotto nella parte di execution mi disegno il prodotto e progetto il prodotto e poi lo vado a realizzare questo è come funziona l'essenza di un'organizzazione adesso passiamo diciamo applichiamo l'alline decision quality a questo caso pratico che in realtà è un caso reale che mi è capitato un nostro cliente che commercializza appunto prodotti artigianali su misura possiede un negozio fisico le cose stanno andando molto bene e la proprietà che ci ci chiama era molto contenta dei risultati che stavano realizzando e mi dice ho a disposizione un budget per voler aprire un nuovo negozio mi consigli qual è la scelta migliore quindi diciamo che l'obiettivo della dell'imprenditore è quello di aprire un nuovo negozio se io avessi saurato un processo di approvazione con la cliente avrei detto ok adesso dove lo vuoi aprire quanti metri quadri deve essere quali devono essere le caratteristiche eccetera eccetera in realtà alla l'indesis on quality dice questa cosa qui sei sicuro che il tuo obiettivo massimizza l'investimento io ho un investimento un budget quindi a disposizione una decisione di business vi ricordo che è un'allocazione irreversibile di risorse finanziarie o reversibile ad un certo costo e quindi quello che io vado a fare è una volta che ho allocato queste risorse finanziarie come le massimizzo quindi la domanda da porre all'imprenditore quali sono le alternative che hai nel fare questo negozio nell'aprire questo negozio fisico per massimizzare appunto il tuo investimento quindi l'obiettivo riformulato quindi non è dare risposte corrette quindi processo di approvazione ma è porsi opporre le giuste domande l'obiettivo riformulato è questo valutare se aprire un nuovo negozio fisico a questo punto abbiamo applicato alla l'indesis on quality e il passo successivo appunto è stato quello di definire e strutturare l'obiettivo coinvolgere le persone giuste e soprattutto e soprattutto definire il frame decisionale e questa cornice ossia il come che include il modello di business ossia dove aprirlo come aprirlo la tipologia se ci devono essere partnership eccetera eccetera a questa fase di definizione di frame decisionale quindi siamo al passo 1 e 2 qui segue il passo 3 dal quindi dall'aprire un negozio fisico quali sono le altre strade alternative che ho ea questo punto e risponde naturalmente il passo 3 alla domanda che cosa unendo che cosa e come c'è un tool molto bello che si chiama strategy table molto potente che questo qui abbiamo il come è il frame decisionale e diciamo ogni colonna rappresenta una decisione strategica con le proprie opzioni quindi qual è il mercato geografico qual è la tipologia di negozio qual è il target qual è il rapport quale deve essere rapporto qualità prezzo se ci sono eventuali partnership e la marketing strategy nella nella colonna di sinistra è il che cosa cioè sono le alternative generate adesso con questo tool diciamo l'obiettivo è quello di mappare in maniera coerente le alternative strategiche sul come facendo in questo modo io parto apertura negozio fisico devo creare un modello di business coerente con la mia idea iniziale quindi scelgo una e una sola opzione per ogni colonna e dico ok la persona del negozio fisico naturalmente lo apro in un'altra città la tipologia del negozio deve essere fisica il target e b2c quindi al consumer il rapporto qualità prezzo e buono non faccio nessuna partnership in questo caso la marketing strategy è quello di influenzare il mercato sia farmi conoscere nell'altra città quindi fare investimenti il il diciamo la seconda alternativa è fare un e commerce quindi deve essere coerente con il discorso di commerce quindi quello che faccio e dico qual è il mercato geografico di riferimento in questo caso io ho scelto europa ma poteva poteva essere anche il mercato nazionale il la tipologia di negozio e fisico il target b2c il rapporto qualità prezzo è ottimo perché non devo installare appunto non devo mettere un nuovo un nuovo negozio quindi posso fare promozioni eccetera eccetera posso fare partnership con all source dell'e commerce e influenzare il mercato non faccio un grande investimento nel fare un nuovo punto vendita ma riducco il rischio e quindi faccio un piccolo investimento oppure l'altra alternativa potrebbe essere fare dei corners fare dei corners quindi lo posso fare a livello nazionale la tipologia è di tipo fisico il target sempre b2c il rapporto qualità prezzo ottimo negozi con prodotti mi posso scegliere negozi con prodotti complementari e influenzare il mercato quindi investimento meglio oppure mi posso scegliere di fare una rete di franchising e anche qui mi scelgo nazionale outsourcing b2b così nel senso che indirizzo il cliente finale attraverso i franchisi il rapporto qualità prezzo è buono non c'ho nessuna partnership e influenzare il mercato a questo punto vedete che in questa strategy table io ho quattro quattro alternative mappate in una in una in una tabella visuale quindi io vedo contemporaneamente questi queste quattro alternative con gli altrettanti business model questo mi si riduce l'over confidence il confirmation bias l'anchoring il il grouping e soprattutto la parte di complessità e incertezza inoltre posso fare una cosa un'altra cosa molto interessante che è quella di combinare le diverse diciamo opzioni delle decisioni strategiche del frame combinarle con un'alternativa che potrebbe essere un'alternativa ibrida e diciamo l'alternativa ibrida potrebbe essere quella di scegliere un e commerce più fare dei corners a questo punto io posso dire l'e commerce e lo posso estendere anche negli Stati Uniti quindi diventa fisico più virtuale diventa b2b2c rapporto qualità prezzo ottimo negozi con prodotti complementari più outsourcer di commerce e influenzare il mercato quindi un medio investimento a questo punto attraverso il diciamo un'analisi analitica e in cui si esamina è stata esaminata l'hybrid strategy e l'apertura del negozio fisico in questo caso messi a confronto quello che è emerso anzi vi volevo dare prima questo vi volevo passare questo concetto quindi qual è il grande vantaggio della dell'indecision quality il processo di generazione selezione alternativa quindi parto dall'obiettivo mi genero le diverse idee poi mi scelgo tra tutte queste idee all'idea 7 vado con business model canvas a costruirmi appunto il modello di business mentre con l'indecision quality quello che faccio è definisco l'obiettivo mi genero le varie idee poi vado con strategy table quindi in cui queste alternative le vedo tutte contemporaneamente e quello che faccio è non mi prendo una sola alternativa ma mi vada a scegliere non solo l'idea alternativa 3 che è molto importante poi mi vado a costruire delle hybrid strategy e qui io porto avanti non solo un'idea ma bensì in questo caso tre idee le porta avanti contemporaneamente misurandole con il proprio valore rischi e sicuramente il valore è molto superiore a quella dell'idea 7 del caso precedente qui ho creato valore incrementale qui ho creato valore esponenziale tornando a noi la soluzione scelta dalla cliente naturalmente valutando opportunità e rischi era la hybrid strategy quindi per essere ha scelto unicommerce per essere visibile in tutto il mondo e alcuni corners che vendevano appunto prodotti complementari l'obiettivo i risultati ottenuti sono che ha diminuito gli investimenti dal 38 per cento ha aumentato le vendite naturalmente l'anno successivo rispetto a quello che aveva in mente del 13 per cento e ha ridotto i costi fissi del 55 per cento se mappiamo il processo l'indecision quality su questo caso quindi definizione obiettivo di business aprire un nuovo negozio in realtà qui è cambiato l'obiettivo di business valutare si aprire un nuovo negozio era naturalmente coerente è stato esplorato il mercato i competitors naturalmente è stata fatta una una enfatizzazione quindi una ricerca tramite design thinking con il discorso di valutare la percezione o la propensione dei clienti è stato definito lo scope dell'obiettivo quindi il frame è stata utilizzata la strategy table sono stati valutati le migliori alternative con i valori rischi e poi naturalmente è stata scelta l'implementazione l'idea migliore quindi dove possiamo utilizzarla l'indecision quality in tutte le situazioni dove vi è un'allocazione di risorse finanziarie quindi lanciare i nuovi prodotti innovare rispetto alla concorrenza aumentare la profittabilità aprirsi a nuovi mercati servizi eccetera eccetera vi volevo passare un ultima diciamo due due slide che sono quindi per creare un nuovo mindset abbiamo bisogno di processi quindi creare i processi che permettono di definire centri decisionali e ruoli precisi per generare commitment collaborazione e condivisione degli obiettivi in modo da favorire appunto la presa di decisioni di qualità e soprattutto ridurre i tempi di execution poiché la la decisione è stata preventivamente condivisa tra tutte le divisioni che impattano l'obiettivo di business inoltre utilizzare la diversity quindi l'intelligenza collettiva per vedere il problema opportunità da diversi punti di vista e la diversity qui non si intende solo quella aziendale ma anche aprirsi allo sguardo esterno a clienti fornitori esperti eccetera utilizzare tool strumenti quindi innovativi che permettono di creare insight di valore facilitare le decisioni e aumentare le performance della produttività che è tutto questo genera quindi crea un nuovo mindset una mentalità basata su spirito critico creativo e collaborativo che permette di attenuare i pregiudizi e coltivare la cultura della creazione del valore esponenziale e del valore condiviso tra tutti gli stakeholder in sintesi questa è la sintesi finale di l'index john quality per innovare prima devi cambiare il modo di pensare un'ultima un'ultima cosa e poi passiamo alle domande sto diciamo in questi giorni penso all'inizio di novembre completerò un manuale e ci sarà un canvas completo e che verrà descritto passo passo quindi se siete interessati o scrivete a stratego punto stratego punto coach e in modo tale che vi aggiornerò quando pubblicherò sarà online questo manuale naturalmente gratis oppure vi scrivete al blog oppure seguite se volete seguite o seguite il gruppo linkedin liquid brands adesso vi ringrazio dell'attenzione se avete delle domande naturalmente sarò molto felice di poter rispondere alle vostre curiosità ci sono domande curiosità eccomi salto su in piedi sono di nuovo qua una cosa credo che tu abbia vi sia sia stato sottoposto da del signor michele un che esiste da poter eventualmente andare ad analizzare quindi immagino che non so se ne vedi dovresti vederle franco le domande all'interno della tua o meno no purtroppo no ok allora magari invito invito signor michele a mettere il link sulla chat in modo tale che tutti possano possano accedere e insomma vederlo nel caso non non voglia condividere queste informazioni noi lasciamo aperto magari il webinar fino per ancora dieci minuti raccoglieremo le domande e sarà nostra premura comunque inoltrarle a franco in modo tale che voi riceviate una una risposta sì sì perfetto perfetto infatti allora mi stanno chiedendo potete proiettare i nuovi riferimenti per avere le news in uscita ecco grazie osvaldo per per la domanda naturalmente sono stato molto eh cioè abbiamo poco tempo a disposizione quindi è stata una presentazione diciamo del canvas molto veloce però quello che voglio sottolineare questo assolutamente bisogna i problemi che vedo è che spesso l'obiettivo e non è strutturato e quindi di conseguenza sia il decision maker che il team che lavora all'obiettivo è spesso diciamo che sono lavorano su due spesso lavorano su due cose completamente diverse e quindi a un certo punto la soluzione presentata dal team al decision maker è molto differente da quello che lui si aspettava questo è uno degli aspetti spesse volte il frame decisionale non viene non viene definito cioè il cosiddetto effetto plunging in ossia dalla dalla definizione dell'obiettivo si passa quindi dal passo 1 si passa subito al passo 4 alla risoluzione del problema senza aver capito cosa vuole veramente il cliente in questo caso può essere interno oppure può essere esterno queste sono un po diciamo le le cose importanti da sapere e poi l'altra cosa importante è appunto che il l'obiettivo di business dovrebbe essere sempre collegato alla identità e strategia aziendale per avere un effetto e quindi poter contribuire al raggiungimento della mission e in questo caso poi al raggiungimento quindi degli obiettivi di lungo termine ok qua sono state raccolte le varie domande direi franco che te le faccio avere appena chiuso il webinar e salutiamo tutti quindi vi ringrazio di nuovo per aver partecipato così così numerosi e quindi vi do il l'arrivederci al nostro prossimo appuntamento e grazie franco per questo prezioso intervento grazie a tutti veramente molto utile grazie infinite grazie buongiorno a tutti salve grazie a tutti